Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovo episodio di minecraftita Allora sono qui nelle caverne che sono dietro e sotto la casa dell'hobbit Che lo chiamo casa dell'hobbit ma poi alla fine la casetta sotterranea E niente qui sotto ho iniziato a illuminare un po' Molto come si dice Easy peasy lemon squeeze insomma Una torcia ogni tanto giusto per evitare spawn grossolani Qua è stato un clipper ma non penso che abbia fatto lui sto buco 3x3 Cioè in realtà è 3x3 Vabbè lasciamo stare Ehm Comunque Si ho scoperto che continua Fai bene un po' il ferro che Ho fatto solo un rush di luce Rush di luce cazzo sembra Vedete che qua c'è Una caverna abbastanza lunga Dammi il ferro Ehm Qua ci sono uno scheletro Call non mi serve Qua si scende Ehm Però siamo abbastanza in basso quindi non penso che Sia utile Senti dovresti morire malamente Te lo dico con affetto Ehm E no E no E no E no Questa mafia Questa cospirazione Ehm Uuuu ciao enderman Mi stai molto simpatico sai E ora no Ora non mi stai più simpatico Stupido ragno Ora che cazzo di giro devo far presa dire Dove sono sceso io? Sono sceso qua Guarda se mi fa di cadere Guarda se mi fa di cadere E no E no E no E no E no E no 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 Ok 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 Su dal grilis ancora all'avventura Attenzione Ok ok ragno non c'è più ragno non c'è più Potrei illuminare un po' questa zona No ma vaffanculo Troppe emozioni già per questo episodio Però di qua magari Ma vaffanculo L'ho dovuto eliminare perchè avendo addosso l'armatura non si abbia mai despawnato Non ho torce quindi direi che l'esplorazione per oggi La finiamo qua Troppe emozioni Troppe emozioni tutta una volta No basta Troppo troppo Dai Comunque come vi stavo dicendo di la continua E potremo andare ad esplorare Una delle prossime volte Ok ho fatto un arredamento parziale della casa Per quanto riguarda due delle stanze Una l'ho finita Una a metà Allora come ti vedete ho messo Un cammino qua in fondo Come avevo già anticipato Qua per ovvi motivi ho dovuto mettere Delle protezioni a queste cosette Perché altrimenti poi mi prende fuoco tutto E perdo tutto Per tutto il legno E non mi va Di qua c'è la zona cucina Mi è venuta particolarmente bene mi piace Qui abbiamo Ehm Dei Una cucina antica Un po' Rustica Diciamo Perché Si dice rustica No rustica sono le patatine Vabbè rustica Si dice rustica Vabbè rustica Abbiamo dei cobblestone walls Che fanno da supporto A un piano Di Lana Si lo so La lana non è che andrebbe molto bene in cucina Però diciamo che è come marmo magari Bella superficie di marmo levigato Quello la Però GG Qua questo è il piano di cottura ed è per questo che Ehm E' un po' Un po' bruciato E questa invece è la cappa Per il Per il fumo dato che non ci sono finestre in questa casa Che casa di merda Senza finestre Ehm Qua ci sono i forni E qui le provviste Molto provviste Da una torcia giusto perché sennò Serve un po' da merda Ma non la levo che sennò Poi devo fare un casino per riprenderla Questa è la cucina ed è carina Qua c'è il camino Ehm Che è easy peasy lemon squeezy Molto Molto Tranquillo Là ci ho messo della netherrack Perchino avesse capito Così il fuoco va davanti all'infinito Forse riusciamo a levare anche le torce Per vedere 9 Bene Qua dentro non ci può spawnare nessuno Però senza torce mi sembra troppo vuoto Quindi le rimetto Di qua volevo metterci Uff Che se sembra strano Un divano E magari Delle librerie Perchè Cioè Questa è un Non è una casa moderna Possiamo fare un televisore Quindi direi che ci mettiamo dei libri O mettiamo proprio tipo Un Come si chiama Avete presente Come si chiamano I frame Ci metto un frame con un libro dentro Uno di quelli che si Che svilluccicano O Direttamente le librerie A proposito delle librerie Ho fatto le ultime due che mi mancavano Ora ho solo tre libri Quindi Bisogna fare un po' di raccoglimento di canne da zucchero E Sì Altra cosa Ho notato Mi sono informato Ho visto Video sullo snapshot Di qua di là Ho visto che C'è un Un nuovo villager Praticamente Un nuovo villager Un nuovo villager Che Acquista La carne Di Zombie Qua metterei un applauso tipo Bravo Bravo Ok La carne di villager La rotten flash Questa Tipo Ti da uno smeraldo per uno stack Ma Capisci che È OP Come cosa È OP Decisamente Come cosa Ne approfitto per fare un viaggio Nell'uso principale Così poso la gunpowder Vedo quanta rotten flash ho Perché devo smettere di buttare la rotten flash Devo La conservare tipo Devo fare Ceste e ceste di rotten flash Da qualche parte Così appena Appena esce il nuovo villager A manetta Nella macchina Villaggiatrice Anche se penso non funzionerà più Perché probabilmente Dato che hanno chiamato tutte queste cose sui villager Probabilmente Fixeranno sto bug Che sto utilizzando Ehm Però In qualche modo Otterremo quel villager E E Tipo lo sfrutteremo Fino Fino al midollo Della serie Quindi Ehm Qui Ho uno stack Che non è troppo Non è troppo Mi prendo uno stack di 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 bombial Che mi ha servito prima Per fare Il color arancione delle mura Di sopra di sicuro ne avrò un altro stacchino O giù di lì Quello che mi interessa è la mob farm Perché Ehm La mia fonte primaria di drop Quanta rotta in flash avrò Io Punto per sette stack Oppure sei O sei o sette Sei perché così Più lo stack che ho di là Faccio sette No? Sette è il numero massimo di cose No? Ok? Uno Due Tre Quattro Quattro e mezzo Più Mezzo che ho nell'altra isola Più qualcosa che ci avrò di sopra Sette Sette Ultimo demonio Quanti creeper Ma Io devo metterci Metterci Midi Metterci Insomma devo mettermi di impegno E scoprire qual è il punto ideale per stare a FK Cazzo mi sono usciti quattro mob in due secondi Aspetta Wait a moment Sono tre polli Erano due Ah Basta Pogli di merda Ok quindi abbiamo il divano E Penso ci metterò i frame Tipo i frame qua Con delle librerie sotto L'altro giorno Stavo guardando un video Di BWO Perché come sapete io prima di un creatore di contenuti sono un youtuber io stesso Cioè youtuber Sono un Mi piace guardare video Se no non eravamo qua su YouTube no? Ehm Perché non sapesse io seguo tanto questa community americana Sella Minecraft E questo utente BWO Ehm Chiedeva in questo video Non so di quanto tempo fa Penso una settimana fa Ehm Un leggio Nella serie Avete presente Ehm Nelle Nelle mod Nella mod Prima Mistcraft C'erano i libri no? E tu potevi creare dei piccoli supporti in cui potevi proprio metterci il libro Ehm Dato che questi sono abbastanza famosi no? E hanno contatti diretti con gli sviluppatori chiedevano una roba del genere Quindi possibilmente lo avremo in futuro Quindi Quello che sto per andare a fare è un po' preventivo a ciò Nella serie Un po' me lo aspetto quindi Portiamoci avanti Ehm Quora sto usando Tutta roba che penso non mi possa servire O che Penso sia completamente fuori luogo Vuoi prendere un po' di alberelli tipo due di questi E uno di acacia GG E dopo andiamo a fare qualcosa anche con questi tipo di decorazione o del genere Intanto Vado a prendere Altri libri Dovrei Andare però a raccogliere Non so quanti 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 Si quanti Quanti Cane da zucchero io abbia Quante canne da zucchero io abbia Quindi Insomma vediamo Ok Ok mi sono equipaggiato Ho creato due bookshelf Mi son preso un pezzo di carta Perchè ho deciso che mettere due libri troppo mystery Quindi da un pezzo Eh si da una parte metteremo un pezzo di carta Dall'altro un libro che ho già Perchè avevo già Eccolo qua Ehm Mi son portato il materiale per fare Il Il Frame Ho bisogno di 16 blocchi 16 stick Ehm Eccoli qua Quindi diventa Puff Puff Mettiamo la paper di qua Book and quill di qua Perchè non ho la skin Abbo Così Insomma Direi che Bella zona lettura Per gli hobbit Ci sta Insomma Proprio a bilbo Piaceva un botto leggere no Comunque vedere sta cosa Mi ha dato un po' fastidio Quindi rilogo Ok Ehm Per quanto riguarda la casa La ritengo Quasi completata Perchè voglio aggiungere dei quadri Per renderla Più accogliente Qua come vedete sto Piazzando le ultime porte Non proprio ultime Perchè Ancora due Due righe Per così dire Facciamo l'equipo Vabbè mettiamola qui per ora Giusto per evitare Spawn Non proprio Desiderati Ok Ops Così 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 Me ne mancano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Non ne ho 9 Devo craftarle Ne avrò tipo 5 Mamma mia la precisione Cioè Scherzate Allora Per farne Ehm Altri 4 Mi servono 24 pezzi Quindi mi servono 6 log Se la matematica Se la matematica non è opinione Ma soprattutto se ho fatto giusti i calcoli Come ne esce una di più perchè avevo già dei pezzi Ok Dovremmo essere praticamente a posto E i villager dovrebbero Essere portati anche verso questa realtà C'è la realtà del villaggio Ehm Facciamo così 1 2 3 Me ne manca pure una GG Blocchi dappertutto Puff Queste dovrebbero essere tutte considerate come case Non ci dovrebbe spawnare nessuno però Quindi GG Porta Abbiamo una porta in più Ci sarà qualche posto in cui piazzare una porta Ah mi avete suggerito sempre nei commenti stavo leggendo prima Di mettere delle porte qui in modo che i villagers vengano naturalmente Però dovrei mettere idealmente tante porte tipo qua sotto Che sarebbe una cosa oscena quasi Potrei mettere delle porte qua Però comunque sarebbero poche Rispetto al minimo Una doppia porta Mai a tenerle aperte Mai mettere delle porte e tenerle tutte aperte Potrebbe essere una buona cosa Per comunque mettere delle porte Perchè se non sbaglio I chunks non sono Così tanti Dovrebbe essere 3 chunks massimo di Distanza Quindi dovrebbe comunque Ehm Interferire con Questa cosa Qui Ehm Non crescono sti villager Sono fermi a 20 Non vorrei che lo spazio fosse poco ma Nell'ultima stagione lo spazio di sicuro non è stato un freno Che faccio a salire qua sopra Ok Ehm Allora Vogliamo parlarne Perchè non fa più come una volta Guarda Guarda che c'è gente che ci sta male Ehm A non fa pare per giorni a giorni Sono 21 Almeno da due episodi Dai Fagli fa pare un po' Oh Voi a cane No 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 Cosa puoi fare? Vuoi salire? NO HA SUKA HA 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 Oh oh Cosa sono steline? Avete viste? E' l'anti-aliasing E' l'anti-aliasing E' l'anti-aliasing 16x A bestia Ah Non c'è più Alleluia Ok Ok Anche se ora faccio solo 60 fps Però almeno Magari 16 non è proprio Diciamo 8 Ho notato che quando Cambio Cose tipo Il filtro Nella registrazione va un po' a puttane Quindi sarà meglio interrompere ed iniziare Ed ecco qui Il colpo di classe Più bello di tutto il mondo Che fegata No fa schifo Meglio questo Decisamente molto meglio E questi vasetti Magari tipo Qui Così tipo piante di ficus Ah si molto più figo Allora Un bello screenshot Che comprende un po' tutto Ma che figata di screenshot Le PCT Le PCT Le PCT 1 1 Ok Qua la cucina mi piace molto Soprattutto questa parte Molto roleplay 1 1 Qua delle cose Molto bene Dire che questa casa possiamo Definirla conclusa Se non per le porte Che ora vado a creare Me ne servono 4 6 per 4 24 ancora 6 log Esattamente 6 log Di legno Che noi Avevamo E abbiamo Qua Perfetto Dovemmo averne altri Di spruce Ecco No no Facciamo Si si facciamo lo spruce Perchè lo spruce E' molto facile da farmare Ehm 6 log Ricordate i mega alberi Che sono venuti fuori Lascia stare Boyacania Lullissima Zozza Ok Ehm Come Prossimo Progetto Ehm Soprattutto su quest'isola Quanto guarda quest'isola Ehm Pensavo a un qualcosa Di un po' più Maestoso Maestoso Si ho detto maestoso Così perchè Proprio Rende meglio l'idea Più maestoso Ah queste Teneremo sempre aperte Si 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 Da un ambiente più coloroso Sembra più una casa Alcuni di voi mi hanno suggerito di fare Questa cosa qui Prendere le Working Working Fap Qua mentre ci robe così tipo E qua sopra Dato che Un background è quello Mentre ci le crafting table Effettivamente non si è notta la differenza Però Però no Perchè Questa era giusto per farvi vedere che si poteva fare Per quanto riguarda questa build Ehm Terrò Le working table qui Perchè secondo me ci stanno Cioè non secondo me Ho visto che anche a molti di voi sono piaciute Però Non lo so staccano Capite perchè vedere tutto Tutto legno No No C'è già qua il contrasto con gli slab Però Mi serviva qualcos'altro che desse più Che poi se notate qui La texture proprio Sembra che Continua proprio Una 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 Dunque come dicevo il prossimo progetto Sarà qualcosa Che Comunque Dia un po' di maestosità A quest'isola Vi invito a lasciare dei suggerimenti Io ho già qualche mezza idea Ve la dirò nel prossimo episodio Ehm Proprio così voglio concludere questo episodio Io vi aspetto nel prossimo Vi saluto Ciao Turuturututti